Siamo qua a Clusoni, in media Valseriana, per assistere, oggi abbiamo assistito, abbiamo partecipato alla prima edizione del Clusos of Box. È stata una gara tra macchinine di legno, allestite con coreografie molto belle e divertenti. Già nella giornata di ieri c'è stato molto affollamento di gente e di macchinine qua in piazza dell'Orologio. Ieri fortunatamente siamo stati assistiti dalla bella giornata, c'era un sole e infatti tutti eravamo ben contenti e ben speranzosi nella giornata di oggi. Invece oggi il tempo non è stato clemente. Peccato, però ci siamo divertiti ugualmente tanto, sia noi come piloti a scendere tra le discese piene di pavè e di curve del paese di Clusone, ma anche il pubblico che nonostante la pioggia si è assiepato ai lati del percorso e molto divertito assistito al passaggio di tutte le macchinine. Speriamo in una prossima edizione molto più soleggiata e intanto siamo lo stesso ben contenti e felici che questa prima edizione sia andata bene nonostante qualche goccia d'acqua che è scesa dal cielo. Malgrado la giornata molto piovosa, Clusone ha visto una bellissima giornata animata dalle macchinine di legno, le So Box, in collaborazione col So Box Rally. La Turismo Proclusone si è organizzata questa due giorni dedicata allo sport, una gara di CSI dove ci ha visti veramente protagonisti. Siamo molto soddisfatti dell'esito della manifestazione perché malgrado il tempo è stata molto sentita e tantissima gente ha ammirato questi strepitosi piloti. Diciamo che sono tutti molto coraggiosi e siamo molto orgogliosi di averli ospitati. Ci auguriamo di essere ancora loro partner nelle prossime edizioni. Ringraziamo comunque tutti gli sponsor che hanno partecipato alla manifestazione che sono tantissimi e non abbiamo il tempo di elencarli. L'amministrazione comunale e tutti gli sponsor istituzionali. Grazie mille a tutti. Ciao a tutti, sono Matteo Ronzoni e faccio parte del team Ange Proa. Oggi per noi è stata la prima volta che abbiamo gareggiato. Come tema abbiamo fatto l'ambulanza e infatti siamo anche vestiti da dottori. Questa qua è la prima gara per noi, era la prima gara, ci sono stati un po' di ostacoli, tipo una piscina, un salto, però è andato tutto bene. Come prima gara non è andata male. Grazie mille a tutti.